ciao amici come va il tempo passa e oggi vorrei parlarvi di sei rimedi naturali efficaci contro le rughe del viso ci fai tappezzare il viso di fette di cetriolo quello ve lo risparmio come dico sempre applicare i prodotti sulla pelle serve ma bisogna anche seguire uno stile di vita sano e fare la ginnastica del viso se vi piace l'idea mettete mi piace e arrivate fino alla fine c'è un regalino per voi 1 acido ialuronico è un componente dei tessuti connettivi come la pelle e diminuisce col tempo la conseguenza è la perdita di tono della pelle che risulta meno giovane viene inserito come ingrediente nei cosmetici per idratare e rimpolpare la pelle in farmacia si può acquistare il sodio ialuronato per creare in casa un gel idratante da aggiungere alle creme per prevenire e attenuare le rughe lievi 2 olio di avocado è un olio vegetale derivato dalla polpa dell'avocado è ricco di acidi grassi sani e vitamina e carotenoidi e fitosteroli che lo rendono un ottimo antirughe contrasta i radicali liberi e aiuta a mantenere elastica la pelle va utilizzato sulla pelle una volta al giorno puro o mescolato con altri oli come quello d'oliva 3 olio di rosa moscheta è un ottimo rimedio per l'invecchiamento cutaneo anche per le pelli più sensibili basta aggiungerne qualche goccia all'olio di avocado o nella crema e massaggiare bene il viso 4 idrolato di melissa si ottiene dalla distillazione in corrente di vapore dell'olio essenziale di melissa può essere utilizzato come tonico per il viso o usato come ingrediente nelle creme fai da te è particolarmente indicato in caso di rughe e perdita di tono delle pelli sensibili 5 cibi antiossidanti per mantenere la pelle giovane e tonica è importante curare l'alimentazione un'alimentazione ricca di frutta e verdura cereali integrali e proteine vegetali assicura all'organismo vitamine minerali e sostanze antiossidanti esistono sostanze particolarmente antiossidanti come ad esempio il tè verde ma anche il cioccolato fondente e il vino rosso da concedersi senza esagerare 6 ginnastica del viso la migliore tonificazione si ottiene facendo un po di training ai muscoli del viso sono loro che sostengono la pelle e se perdono turgore si formano le rughe e la pelle cascante ma un po come succede ai glutei esatto le forme del viso perdono il loro volume e contorno per recuperare l'ovale del viso cancellare il codice a barre dal contorno labbra risollevare le palpebre cascanti e ridurre il doppio mento il rimedio più efficace è fare ginnastica per questo ho creato un video corso con la mia speciale routine di ginnastica dei muscoli del viso che ringiovanisce di 10 anni in pochi mesi andate a curiosare in descrizione c'è il link bene amici oggi abbiamo visto 6 rimedi naturali contro le rughe e l'invecchiamento cutaneo commentate il video condividetelo iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche ed ecco il mio regalino di oggi le mie migliori maschere fai da te per il viso che potete scaricare gratis dal link in descrizione qui sotto vivi consapevole e vivi meglio con il sistema di salute naturale di simona vignali